Già il video non è più capace di accendere la vertigo Seve! L'onzigo Sergio! L'onzigo, vieni a prendere questa, prendi questa Usa questa, vai a prendere un pezzo Dai! Dai, asciutto! Dai, un pezzettino! Dai! Ma che ostione ho! Non vuole, non vuoi provarla Cazzo! Non c'è verso! Dio sede!